Melanzane al forno a modo mio, una ricetta contadina semplice e veloce. Come vedrete in questo video il procedimento è facilissimo. Vi lascio la ricetta completa nel primo commento e se vi piacerà lasciatemi un like e supportatemi con le vostre condivisioni. Grazie e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!